Ciao da Antonio di Calzature Nucca e benvenuto a questo nuovo video. Prima di iniziare a farti vedere cosa abbiamo da proporti oggi, volevo fare una breve riflessione su questo periodo che abbiamo vissuto tutti chiusi in casa a causa questo coronavirus. Sicuramente è stata una cosa veramente negativa, brutta tutte le attività chiuse di ogni tipo, però se ben guardiamo alla fine alcune cose positive si possono tirar fuori. Ognuno di noi, penso, può fare questa riflessione. Nel nostro caso, a livello di negozio, abbiamo inserito alcuni servizi rivolti a propri clienti, come te, che pensiamo di portare avanti anche dopo perché insomma hanno avuto un ottimo riscontro. Oltre alla normale consegna col Corriere Espresso, che già da anni facciamo, ora abbiamo anche la possibilità di farti avere le scarpe a domicilio portate da noi, se abiti nel circondario, e addirittura anche le scarpe da provare, nel senso che se non sei abituato a acquistare online oppure vuoi farti le idee un attimo di un prodotto, possiamo venire a casa tua con alcuni articoli da provare che concordiamo prima di partire. E dimenticavo il video per te, nel senso che possiamo fare il video sulle scarpe che ti piacciono, che hai visto sul sito e di cui vuoi capire di più con una piccola recensione personalizzata. Visto che ora ci è concesso di fare un po' di attività fisica, oggi parliamo di sneakers e parliamo di sneakers leggere estive adatte proprio a questo periodo qui, quindi per le nostre prime passeggiate da persone quasi libere. Ora ti faccio vedere di cosa si tratta. La prima, andiamo, il marchio è di Crime, Crime London, che sono delle sneakers così, in questo caso tipo running, come vedi, quindi hanno un po' di zeppettina, hanno anche il plantare interno che è questo, che si aggiunge alla zeppetta, quindi cominciano a avere quasi 5 centimetri di altezza, sono molto leggere e hanno questa rettina proprio che è molto traspirante con anche questi brillantini che rende che la scarpa più raffinata e femminile. La c'è in questa versione colore blu e ora ti faccio vedere anche la versione del color oro, eccola qua, eccola qui, dorata, leggera, estiva, pronta per le tue scorribande. Andiamo a vedere ora un'altra linea, sempre di Crime, perché questa puntata è dedicata a queste scarpe. Allora questa è una scarpettina pulita, semplice, la caratteristica che è molto, molto leggera, questa suola super light che ti consente proprio di essere portata con grande scioltezza. Questa la puoi avere in bianco con il puntalino argento, ancora qua, e l'aceto bianco argento. E poi c'è anche un'altra versione, eccola qua, che è in o platino, oro o platino, con la puntalina in glitter così, molto lucicosa. Ti assicuro che queste scarpe bisogna metterci un sasso per farle stare giù, perché altrimenti lievitano da tanto leggere che sono. E quelle che ti mostrerò adesso sono invece le classiche Crime storiche, suola di gomma, però, eccola qua, sempre molto semplici, però come vedi sempre con tocchi di classe particolari. Intanto la sponda qui, tutta fatta in vitello, molto morbido, questa invece è in pelle stampata, ti faccio notare anche all'interno, tutto in cotone, quindi anche molto fresca. E guarda che bella zeppa che hanno queste, hanno quasi due centimetri abbondanti, due e mezzo di altezza, quindi in realtà non sono così basse, ma arrivi qui col tallone. Pellame morbidissimo e flessibile. Ora ti faccio vedere anche l'altra versione, che anche in questo caso è il color platino, quindi ne abbiamo una fredda e una invece calda, con lo stesso materiale e qui abbiamo il vitello laminato che è nappato, morbidissimo, con le stesse caratteristiche all'interno. Ecco ora le ultime due che ti faccio vedere oggi e anche questa mi piace moltissimo, questa vedi ha il lato della scarpa in sia lato interno che esterno in pitone stampato e vitello stampato e la parte davanti in camoscio e gli conferisce questo gusto un po' più sportivo e grintoso, molto bella comunque da indossare, sia con una tuta potrebbe essere, ma anche da con un bel pantalone e abbiamo infine la versione sul nero che non poteva mancare, però un nero anche in questo caso reso spiritoso e sfizioso dal puntale color platino e dalla sponda laterale, dalle sponde laterali in questo materiale che è una pelle stampata con questo effetto brillantinoso. Eccolo qui, il particolare poi della pelle qui con il platino dietro. Come vedi delle scarpettine che pur essendo molto semplici sono estremamente fresche e comode e anche come dire grazie al plantare interno anche ben sostenute. Bene, abbiamo terminato anche oggi, ti ricordo che tutte queste scarpe le potrai trovare sul nostro sito calzaturenucca.it e soprattutto le potrai trovare in offerta a un prezzo speciale, corri subito a vedere qual è. Da Antonio è tutto e ci vediamo al prossimo!